La cheerleader l'ho già fatta, non posso rifarla, però sono molto stile cheerleader questi qua Io ho scelto, sono del cream, cream team La prima regola del cream team è non parlare mai del cream team Sto male Let's see how you do it when the motherfucking face drops Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati su una video recensione precisone, recensione Io avevo detto che la smettiamo di fare ste cose Però bentornati sul canale di MatiVape per una recensione di MatiVape Allora ragazzi, di cosa andiamo a parlare oggi? Oggi andiamo a parlare di due liquidi nuovi arrivati alla PAF Due liquidi americani nuovi che sono i cream team per l'appunto come detto in apertura Ma a differenza dell'apertura parlatele nel cream team, io sono un cretino e basta Sono un cretino team Anche Vodafone 3 e Wind magari Ma perché? Ma perché? Vabbè ragazzi, di cosa andiamo a parlare veramente? Andiamo a parlare di questi due liquidi nuovi Cinerol e Buttercream Allora, partiamo da un presupposto Io sono, a prescindere, sfavorevole alla cannella Non ce la posso fare Quindi purtroppo lo so già che nel Sinerol c'è la cannella E a me non piacerà Mentre Piace a me Piace a lei Vuoi venirla a dire in camera? Sali su, sali su, sali su Ciao Piace a me Piace a lei Ok, ciao, grazie Dietro, brava Sei fuori dal campo di fuoco Molto bene Allora, purtroppo a me il Sinerol so già che mi piacerà Ma il Buttercream mi piacerà sicuramente Non lo so, adesso lo andiamo a provare Sinerol è cannella accompagnata da una crema alla vaniglia Adesso ne andiamo a provare Ci avvaliamo della facoltà di non rispondere Buttercream invece è crema al burro Tipo Dio Per esempio Andiamo a provare il Buttercream È buonissimo A me piace un sacco Perché è burro burroso E burro burroso No, è una crema di burro molto buona A me piace veramente tanto Questo promosso a pieni voti Tipo Dio A me dispiace ragazzi Ma la cannella proprio Non ce la faccio Non è cattivo il liquido È il sapore proprio Della cannella Che a me non piace Non posso farci niente Ragazzi non mi piace la cannella E che c***o devo dire Sicuramente la cannella Sovrastra un pochettino Quello che è il gusto della crema alla vaniglia Che dovrebbe accompagnare Ma allo stesso tempo È la crema alla vaniglia Che te lo rende svapabile Qualora uno è un po' un indecisio E non gli piace troppo la cannella A chi piace la cannella Qua vince a mani basse Perché è proprio cannelloso Però a me la cannella purtroppo non mi è mai piaciuta Che ciao bella io ti conosco tu fumi la cannella In questo caso non funziona Cioè non funziona per me Ciao bella io ti conosco tu fumi cannella Mandala 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 manda mandela Quindi promosso a pieni voti il buttercream Veramente un sacco buono A me purtroppo la cannella non piace Quindi il cinerol piace a Flavia Ma non piace a me Quindi io personalmente Do la sufficienza Ma perché non mi piace la cannella Non perché il liquido faccia schifo Con ciò vi saluto Se non prima di Avervi invitato a mettere mi piace Condividere il video Iscrivervi al canale Qualora ancora non l'aveste fatto Attivare la campanella Perché vi arrivino le mie notifiche Cioè perché vi arrivino Perché vi arrivino le notifiche del mio canale Vi ringrazio E vi invito anche a seguirmi sul mio Sì buongiorno Vi invito anche a seguirmi sui miei social Quali Facebook e Instagram Seguite quindi mettete mi piace Anche alla pagina del Pastor Pergine su Facebook E se il video non vi dovesse essere piaciuto Ricordatevi che del Cream Team Ne parla solo il Cream Team L'ultima sua fatta Vi saluto Grazie Ciao ragazzi Ciao bella Io ti conosco Tu fumi cannella Mandala 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 5 in con Io килvere Io ti conosco Guardi Ruite come